Lasciamo tutte le mie battaglie civili dopo la testa del tifoso così da poter essere a reggio non è lì. Mi capaggiano di essere schietto e sincero e non diplomatico, qui c'è tanto da fare e in tutto quello che fanno i suoi tifosi hanno passato basta solo essere sinceri. E poi scrive ancora, una cosa seria, ieri da Versa ha detto che le squadre vengono qui dando tutto perché giocano contro la prima della classe, ecco non scherziamo e attualmente non siamo i primi della classe sotto tutti i punti di vista. Io credo che intendesse come parla, che ha otto coppe in pacheca eccetera eccetera. Vittorio, mi rispondo però non posso dire quello che penso, dopo il mio lavoro qualcuno si arrabbierà o penserà che dicono eresia o bugia, io devo dire bugia a fin di bene, se il tifoso mi capisce e mi capisce. Come tanti... Io ci stavo dicendo certo quando ho speso una ganchetta, però per lui non tanto. Soprattutto sul mercato. Per cui io rispetto la mia squadra e la rispetto la mia latina. Ti voglio fare una domanda.